Io sono molto preoccupato Dimmi Sono contento per le belle notizie Gli azzurri vincono di qua, vincono di là Ai nostri amici bomber andate via la voce Tutte belle notizie Però per gli arbitri sono abbastanza preoccupato Sì, perché vedo un basso livello di arbitraggio Non stanno vincendo E la VAR che crea confusione Secondo me sì, anche perché noi tifosi Non vogliamo imparare l'italiano Protocollo, occasioni Tutte queste probabili occasioni Ma vogliamo capire qualcosa del calcio Delle volte non lo capiamo neanche noi Tutte queste tecnicismi Delle volte non li capiamo neanche noi Ultimamente sono capitate Tante situazioni molto complicate Al limite Ma l'abbiamo fatta noi complicate L'abbiamo fatta diventare noi complicate Sono 300 anni che si gioca a calcio Ho capito A volte ci prendono E qualche volta no Ti sei difeso bene Max